Una tragedia che ha visto coinvolto una coppia, un colpo alla nuca a lei, un colpo alla tempia a lui. E' finita così per Antonio Riccardo, di 55 anni, guardia giurata della Security Service, e per la moglie Anna Maria Capuano, di 49. Al fianco, nella loro auto, una lettera, una tragica storia d'amore finita nel sangue, un omicidio-suicidio nel parcheggio del Parco Giovanna, in via Nazario Sauro, nella zona ridosso di via Ossisacocuore. La coppia aveva una figlia di 15 anni, il dramma domenica alle 7 di sera. A trovare la donna, agonizzante nella Panda, è stato un agente di polizia che abita nello stesso parco. Credeva che si fosse sentita male, poi il sangue e l'ha telefonata al 118 ai agenti del commissariato di Giuliano. La donna muore durante il trasporto in ospedale, nella Panda invece, parcheggiata nel parco, c'è il cadavere del marito. Sul posto arriva la polizia, diretta dal primo dirigente Pasquale Trocino. Trovano un biglietto, una sorta di confessione di quanto è accaduto. L'ha scritto l'uomo, non accetta la decisione della donna di volersi separare. L'arma trovata nella Fiat Panda è stata subito prelevata e sequestrata dagli agenti per i rilievi balistici e per le impronte digitali. Nel caricatore della calibro 9x21 in dotazione all'uomo, sono stati trovati tre colpi in meno. Sul corpo della donna un solo proiettile, anche su di lui un solo colpa alla tempia. Secondo la ricostruzione della polizia, Riccardo ha trascinato la donna da casa nella macchina. Lei era ancora in pantofole. La figlia quindicenne, che in quel momento stava ascoltando della musica con delle cuffiette, non ha sentito nulla. Poi il dramma, successo in pochi istanti.